Quei dati che abbiamo visto dietro nascondono la vita reale delle persone. E allora qui a Pani e Pesci abbiamo deciso di dar voce alle ragioni degli altri e di mettere in scena la vita quotidiana delle persone, per esempio quella di un operaio. Ma tu quanto guadagni papà? Lo sapevo che prima o poi quella domanda sarebbe arrivata. E quando Beatrice, la mia figlia tredicenne, me l'ha fatta a tavola davanti ai suoi fratelli più piccoli io a quella domanda che un po' temevo non ero preparato. 1300 euro al mese, le ho risposto velocemente sperando di chiuderla lì. Ma non è poco per quello che lavori, torni sempre stanco la sera, ha aggiunto lei. E certo che è poco, avrei voluto rispondere io, ma poi ho immaginato che non si sarebbe più fermata con le domande. Allora perché non chiedi di più? E allora perché non cambi lavoro? E allora, allora. E così ho provato a chiuderla di nuovo. Beatrice, è quello che prendo io, è quello che prende lo zio Franco, è quello che prende la zia Carla. In fabbrica è così. Per quello vi dico che dovete studiare. Io non ero portato, ma tu e i tuoi fratelli siete bravi, dovete continuare a studiare e dovete farlo bene. E mentre lo dicevo, mi è sembrato che Beatrice fosse rimasta delusa. Delle risposte e forse anche un po' da me. Io invece di mio padre sono sempre stato orgoglioso, anche se faceva solo l'operaio e non... Com'è che si chiamano quelli che vanno di moda oggi? L'influencer. Lui e i suoi compagni, quando uscivano dalla fabbrica, sorridenti con le loro tute blu, a me sembravano importanti. Importanti e sereni. E forse sereni lo erano davvero. Se non altro, il loro stipendio valeva più del mio. 50 anni fa, quando mio padre e mia madre si sono decisi, bastavano 80 stipendi da operaio per comprare una casa. Oggi ce ne vogliono quasi il doppio. Tutto aumenta tranne gli stipendi. È per via della competitività, sento dire da una vita in televisione. Il costo del lavoro in Italia è troppo alto e le aziende non crescono. E così hanno bloccato gli stipendi per anni. Ma io le aziende che crescono non le ho viste, anzi ho visto le aziende che chiudono. E il bello è che per farlo, per chiuderle, chiamano anche certi sapientoni che in fabbrica non ci hanno mai messo piede. Super manager. Li chiamano. E li pagano. Li strapagano per lasciare a casa la gente. Personaggi misteriosi che non incontri mai, con cui non parli mai, e che in tre giorni guadagnano quello che io guadagno in un anno. E noi zitti, anche se è uno scandalo.